Buonasera a tutti e grazie di essere intervenuti. Diamo subito l'ordine dei lavori così sappiamo come comportarci. Adesso sono le 6 e un quarto, poi mi sintonizzerò meglio, e vorremmo finire attorno alle 7 e mezza. Quindi una cosa che è sopportabile, anche se i temi saranno probabilmente molto interessanti e vi verrà voglia alla fine, sentiti tutti gli oratori, di andare avanti. Ma normalmente quando noi invitiamo qualcuno delle altre regioni, qualche politico delle altre regioni in Piemonte a fare dei dibatti, gli diciamo guarda che a 7 mesi la gente va a mangiare, quindi qui bisogna finire più o meno a quell'ora. Allora il tema che è stato canonico è se esiste una questione cattolica in Italia. E naturalmente è fin troppo ovvia la risposta, esiste, anzi è stata declinata in tutte le tipologie possibili. Si è partiti con lo scontro frontale, da Pio IX fino al 1919, insomma, quando ai cattolici era impedita la partecipazione politica, sia come elettori che come eletti, perché lo Stato che era nato dalla rivoluzione liberale, era uno Stato ritenuto illegittimo dalla Chiesa. Nel 1919 succede però che c'è la prima vera applicazione, qualcosa c'era già stato nell'elezione del XIII, del suffragio universale maschile, quindi dell'allargamento del corpo elettorale. E allora le ipotesi che erano state già avanzate da parte del mondo cattolico nei primi anni del Novecento, di un partito di ispirazione cattolica, riprendono con Sturzo, che ha il permesso del Cardinal Gasparri di fare quell'appello ai liberi e forti per un partito, non un partito cattolico, cosa che Sturzo negava potesse esistere come contraddizione in re, nel senso che partito significa parte, cattolico rimanda alla universalità. Quindi non ci può essere, secondo Sturzo, un partito cattolico, ma un partito di uomini e donne che attorno ai principi fondamentali del XIV possono, laici, cattolici, credenti e non credenti, ritrovarsi in un programma politico. La scelta della Chiesa era una scelta, come dire, un po' sperimentale, nel senso che, come voi poi noi sappiamo, si tenne un po' le mani libere dal Partito Popolare e anzi, quando poi apparve il fenomeno del musolinismo, il fascismo, ai suoi albori, la Chiesa decise di suggerire a Sturzo l'esilio in Inghilterra, cioè allontanò il capo del Partito Popolare e appoggiò quelle frange di cattolici moderati o cosiddetti clerico-fascisti che decisero di sostenere il regime nella sua prima fase, poi sappiamo com'è andata dopo il 1924. Infine c'è la terza declinazione, che è quella del dopoguerra, che tutti abbiamo sperimentato, che è quella della democrazia cristiana, un partito nel quale il nesso tra politica generale della Chiesa e politica dei cattolici è molto stretto, nonostante anche qui ci siano da parte dei militanti politici e dei dirigenti politici, dei punti di distingo molto forti, pensiamo a un De Gasperi che per non aver assecondato in toto le cose che voleva fare Pio XII, non viene ricevuto dal Papa in udienza privata quando è Presidente del Consiglio e scrive una lettera nella quale insieme al rincrescimento personale che sottolinea molto fortemente fa notare che è improprio e non era del tutto opportuno quello che aveva fatto il Papa e poi ci sono tutte le altre questioni successive. Il fondo di questo rapporto molto forte è naturalmente la finalità di quel partito che doveva essere la chiamata alle armi contro il comunismo, la barriera al comunismo e questa è l'efficacia fondamentale di quel partito che poi però si trova a dover gestire la cosa pubblica per molti anni, per un cinquantennio, quindi un periodo molto più lungo di quello che era stato il ventennio precedente, solo per fare paragoni e non per metterli sullo stesso piano, sia ben inteso. Nel 1999 tuttavia quella che sembrava ormai una ragione laterale diventa una ragione fondamentale perché con sorpresa di tutti cade il comunismo e la democrazia cristiana che aveva vinto storicamente la sua battaglia perché aveva, come dire, avuto sul campo le sue ragioni a sua volta cede, crolla, non trova più la ragione per stare unita insieme, per radunare insieme cattolici che guardano in un certo modo la società e altri che guardano in un altro modo, banalmente intesi come destra, sinistra e centro e c'è quella diaspora e quella affannata rincorsa di partiti e partitini a varia denominazione che tentano di portare avanti il disegno democristiano che tuttavia non ha il successo. Oggi la cosa è la quarta tipologia, cioè i cattolici sono impegnati in tutti i partiti, sostanzialmente non c'è nessun partito che non conosca, forse il partito, ma neanche, non voglio fare il nome, non c'è nessun partito nel quale non ci sia chi esplicitamente dicendosi cattolico non intervenga a dare il suo contributo al programma di quel partito e nello stesso tempo c'è una sperimentazione nuova dei rapporti tra la Chiesa, intendiamo Chiesa, diciamo la conferenza episcopale italiana e i partiti perché l'influenza che una volta era unidiretta viene questa volta spalmata sulle presenze di cattolici nei vari partiti, sì come voi vedete ci sono appelli, non voglio condizionamenti, ma insomma l'influenza indubbiamente c'è soprattutto su alcune questioni, su alcune questioni che sono evidenti che riguardano i cosiddetti problemi etici e in parte anche il tema della scuola. Oggi la situazione della crisi è talmente grave che qualcuno riparte e ripropone il tema è possibile l'unità nuovamente, l'unità dei cattolici, è possibile ricomporre queste presenze varie nei vari partiti che a loro volta in quei partiti non si trovano così bene come si trovavano all'interno della democrazia cristiana e che hanno ciascuno dei propri imbarazzi e delle proprie difficoltà a vivere nei partiti nei quali sono collocati in una nuova formazione politica che ricordi quella che è stata l'esperienza della democrazia cristiana. Questo è uno dei temi che sono stati fortemente dibattuti in questa estate, nella primavera, nel corso di quest'anno direi e che probabilmente torneranno in qualche misura in vista delle prossime elezioni anche se quel motivo per cui la chiamata all'unità fu possibile, la lunga esperienza democraziana fu resa possibile, quel motivo non c'è naturalmente più ma non ce n'è neanche qualcuno di analogo a meno che domani non si affacci quel temuto scontro di civiltà che potrebbe avvenire una volta finite le ideologie come scontro tra varie religioni, cosa per la quale mi pare che la chiesa oggi sia molto prudentemente distante e cerchi di fare tutti i passi perché ciò non avvenga ben consapevole della tragedia che tutto ciò costituirebbe per le nostre società e per il mondo. Dunque qui una prima domanda che faremo ai nostri interlocutori è appunto che cosa pensano di questa cosa, ma andiamo un po' più in là perché altrimenti credo che esaureremo rapidissimamente o forse non lo esaureremo ma insomma ci sarebbero delle risposte forse comuni, non lo so, poi vedremo. La domanda è appunto fatta perché le risposte ci siano documentate. Ma c'è un altro tema, nella presenza varia dei cattolici in vari partiti, che cosa possono apportare di specifico per dichiararsi cattolici in quei partiti? Ora questo è un tema ricorrente, è stato sperimentato non in Italia ma nell'area austro-svizzera-tedesca dai socialisti cristiani, è stato sperimentato dai liberali democratici, tutti coloro che partecipavano in qualche misura in Europa in partiti non strettamente definiti cattolici si chiedevano quale potesse essere il ruolo specifico dei cattolici, individuavano, dei cattolici o dei cristiani, e individuavano la loro presenza in un di più, cioè in un qualche cosa che aveva a che fare con profonde ragioni etiche, con l'attenzione alla persona, con una visione del mondo dove il messaggio cristiano preponderantemente ti indica determinate strade, con una concezione del rapporto tra la natura, l'uomo e la società, che non sarebbe mai stata esaustivamente risolta da partiti nei quali si sottolineavano dei valori che tuttavia non venivano coniugati con quella profondità che è propria del pensiero cattolico. Questo ci porta a un'altra domanda. La distinguiamo noi oggi la presenza dei cattolici in quanto tali nei vari partiti in cui militano? Questo quid in più è manifesto? Cioè è riconoscibile pubblicamente, popolarmente? Cioè dall'opinione pubblica? Io credo che l'opinione pubblica oggi una certa risposta su questa domanda la possa dare in relazione solo a un tema, che è quello dell'attenzione ai temi etici. Qui la sollecitazione dei cattolici a una prudenziale attenzione per i problemi della vita, della morte, della nascita assistita, eccetera, eccetera, è effettivamente stata un richiamo che li rende visibili pubblicamente e anche efficaci nell'azione politica, nel senso che si sono ottenuti da parte loro dei risultati. Sono apparsi come risultati forse difensivi, non è apparso probabilmente all'opinione pubblica generale e magari all'opinione pubblica di centro-sinistra o di sinistra, visto che siamo in questa sede, è chiaro il motivo, così dire, positivo di questo loro intervento, ma è comparso. Ma non c'è solo questo in quel quid, in quello specifico. Per esempio, oggi siamo all'interno di una crisi economica e finanziaria, nella quale è evidente che non se ne esce senza un richiamo a una nuova etica, un'etica che guidi fortemente l'economia, la finanza. Se non si instabiliscono dei principi etici possiamo fare tutte le manovre che vogliamo, contenitive delle spese, possiamo ridurci alla povertà, tutto dove vogliamo, ma non si risolverà quello che oggi è il tema fondamentale. Cioè una finanza e un'economia che hanno, come dire, attraverso una rivendicata autonomia relativa, praticato un'autonomia e un'arbitrarietà assoluta del loro muoversi nella società e nel mondo. Quasi una irresponsabilità rispetto al mondo. Cosa dicono su questo punto i cattolici? Ci sarebbe un largo spazio. Cosa dicono nel rapporto tra lo sviluppo e il creato, il tema dello sviluppo sostenibile e dello sviluppo illimitato? Qui loro rispetto alle tradizioni liberali e marxiste avevano una carta fondamentale eppure sembra che non la giochino, sembra che certe cose vengano lasciate, che so, alle tematiche dei verdi o di gruppi esasperati. Mentre invece quel rapporto è al fondo, è alla radice propria del pensiero cattolico. Nel rapporto con la società moderna questo tema della custodire la terra, biblico, è un tema che non è stato sufficientemente pregato o almeno non è visibile. Allora, cosa hanno a dire i nostri interlocutori sul fatto che su un fronte sia visibile quello che sembra, come dire, un po' più caro alle gerarchie ecclesiastiche e sugli altri fronti che sono propri del pensiero più profondo del cattolicesimo e anche delle suggestioni di pensatori cattolici di grande spessore invece non si cimentano e la loro presenza pur plurale non viene avvertita. Questa è la seconda domanda che farei. Poi c'è una terza, ma mi accorgo che se no parlo soltanto io e allora se ci sarà lo spazio lo faremo. Cioè anche sulla riconoscibilità personale etica dei cattolici dentro i partiti in cui militano, nel costume che in qualche modo dovrebbero cercare di far applicare o di proporre che dovrebbe essere in qualche modo discriminante rispetto a disattenzioni etiche che sono più che frequenti soprattutto nella vita interna dei partiti politici. Ma, come dire, qui andremo troppo in là. Allora, come facciamo? Qui abbiamo un pubblico, abbiamo delle presenze che io non ho presentato, scusate, perché sono troppo noti. Cioè c'è il segretario regionale del PD che è Morgando che è qua alla mia destra, all'estrema destra. C'è, salutiamo, c'è l'onorevole Calgaro che è dell'Udc. C'è all'estremo limite invece il consigliere regionale, l'assessore, eccetera, del Leo che fa parte. E c'è infine quello a cui chiameremmo di trarre le conclusioni più illuminate, un uomo che è sì dentro la politica, nel senso che è assessore provinciale alla scuola cultura, eccetera, eccetera, dopo essere stato assessore comunale, dopo essere stato direttore dell'Istituto di Cultura Berlino, dopo essere stato mille cose, oltre che naturalmente professore universitario e che quindi, per le cose che ha scritto, il modo con cui le porge e il modo di essere, può essere l'uomo più adatto a tirare, come dire, alcuni fili dalle suggestioni che verranno colte e dal dibattito che ci sarà. Quindi diamo un primo via di dieci minuti a tutti e poi vedremo quello che resta per il secondo giro, quello delle battute o della risposta alle vostre domande. Morgando, si è detto disponibile a rompere il ghiaccio e a parlare per primo e quindi tutti gli altri sono stati ben contenti che ce ne fosse uno che non facesse storia, diamo a lui la parola. Io naturalmente adesso l'ingrato compito di toccarti il tempo, cioè me lo permetterai, non mi scomunicherai, io ai dieci minuti ti dirò sono dieci minuti. Prego. Mi sembrava doveroso come ospite insomma. Ma in dieci minuti naturalmente non è tanto semplice affrontare tutte le questioni che Soave ha aperto e quindi mi scuserete se sarò inevitabilmente un pochettino sommario e se alcune delle questioni meriterebbero sicuramente un approfondimento maggiore. Comincio dalla prima domanda a cui naturalmente è facile dare una risposta che credo tutti daremo allo stesso modo. È possibile oggi rifarla di ci? Naturalmente no. Naturalmente no perché la storia non ritorna mai come prima. La democrazia cristiana non è stato il rifacimento del Partito Popolare di Sturzo. È stata una cosa molto diversa e allo stesso modo oggi anche una iniziativa politica che riproponesse un partito di ispirazione cristiana non potrebbe ricostruire la democrazia cristiana. Io penso che dedico pochissimo tempo però mi sembra importante provare a capire perché io sono convinto di questo. la faccio molto sinteticamente perché la DC è nata ed ha avuto il successo che Soave ricordava 50 anni di governo del paese. Sostanzialmente per due ragioni. La prima perché ha saputo incrociare la domanda prevalente degli italiani e dare alle domande prevalenti degli italiani del secondo dopoguerra la risposta che la maggioranza degli italiani riteneva una risposta giusta. Le questioni erano sostanzialmente tre. La prima, riconciliare il paese con la democrazia, riconciliare i cattolici con la democrazia ma anche riconciliare il paese con la democrazia, ricostruire condizioni di vita democratica nell'Italia. La seconda era ricostruire, diciamo così, un'idea per affrontare i problemi economici e per far ripartire lo sviluppo dell'Italia e la mediazione democristiana delle idee di Keynes è stata quella che è stata vincente nella proposta di politica economica che la democrazia cristiana ha fatto all'Italia. La terza esigenza che c'era allora era dare una prospettiva ad un paese stremato dalla guerra dopo una tragica vicenda soprattutto europea che c'erano le condizioni per costruire un futuro di pace e di cooperazione con vecchi nemici e vecchi alleati che operavano sullo scenario europeo. L'idea di Europa, l'idea di Europa come idea politica prima ancora che l'idea di Europa come idea economica. La democrazia cristiana ha avuto successo per queste ragioni e poi ha avuto successo per un'altra ragione tutta politica che bisognava riuscire a, diciamo così, affermare una prospettiva di sviluppo del paese nella democrazia contrastando il partito comunista. Questo lo ricordava Sergio Soare. Ci sono, adesso, solo per mantenere fede, ci sono oggi le condizioni perché questo avvenga di nuovo? A me pare francamente di no. A me pare francamente di no. E quindi, diciamo così, mi pare che discutere di una riproposizione dell'esperienza come quella della democrazia cristiana sia francamente una cosa un pochettino oziosa. Oltretutto, vale la pena ricordare che io sono stato democristiano per tanto tempo, i tempi della mia giovinezza, insomma. Vale la pena ricordare che nella esperienza della democrazia cristiana era ben presente l'idea di non essere il partito dei cattolici italiani, ma di essere un partito di cattolici, cioè di una parte dei cattolici italiani, che per ragioni politiche e per la situazione del paese raccoglieva un consenso largamente maggioritario all'interno dell'elettorato cattolico, ma che sapeva di doversi misurare sulle proposte politiche e non di dover chiedere, diciamo così, un consenso per ragioni di natura ecclesiale. E questo, come voi sapete, era ben presente nei leader della democrazia cristiana a partire da De Gasperi. Quindi oggi queste condizioni non ci sono più e io credo che, diciamo così, oggi la sfida dei cattolici sia quella di confrontarsi con le mutate questioni, le mutate condizioni della politica italiana. C'è però su questo, diciamo, un tema che io non voglio eludere, perché molti, diciamo così, il dibattito semplifica un po' e dice rifacciamo la democrazia cristiana. In realtà, probabilmente, la maggior parte di quelli che partecipano a questo dibattito non pensano a rifare la democrazia cristiana, pensano a dar vita ad un partito, diciamo così, ad un partito centrista che sia il luogo in cui cattolici moderati e laici moderati ritrovano una loro capacità di stare insieme e di relazionarsi tra di loro. Questo è il segno della difficoltà della presenza dei cattolici nei due grandi partiti, adesso grandi o piccoli che siano in questo momento, insomma, è da discutere, ma insomma, questo è il segno della difficoltà della presenza dei cattolici da una parte dentro il PDL e dall'altra parte e dall'altra parte dentro il PD. Ma questo è anche il segno che la sfida è da collocare su questo piano, cioè è da collocare sul piano della capacità di costruire insieme da parte dei cattolici e dei laici un punto di incontro sul piano programmatico, sul piano dell'elaborazione politica e culturale, che, diciamo così, si caratterizzi e sia attrattivo per il consenso di cattolici e di laici, si caratterizzi sul piano dei contenuti, della qualità del contenuto e della qualità della proposta. A me viene da dire, e concludo questa prima parte, a me viene da dire che questa è la sfida del PD, perché una delle ragioni per cui nasce il PD è esattamente quella di costruire un luogo in cui cattolici e laici riescano a, ragionando dal punto di vista programmatico, a costruire un momento di sintesi. Che poi questo sia facile da raggiungere, sappiamo che non è, che poi questo lo abbiamo già raggiunto, sappiamo che non è, ma che questa sia la sfida che oggi i democratici hanno di fronte su questo tema è altrettanto vero. Seconda cosa che, diciamo molto brevemente, rispetto, appunto una cosa che mi ero segnato, rispetto alle domande, diciamo così, su che cose? Dice Soave, no? Qual è il contributo, no? Dei cattolici nel... ma io vorrei citare una cosa che ho letto, una cosa di Blair. Blair è un personaggio un po' singolare, appartenente storicamente, diciamo così, alla chiesa nazionale, alla chiesa anglicana, convertito al cattolicesimo dopo la sua, dopo, diciamo così, aver finito la sua esperienza di governo. Blair dice una cosa in un articolo che ho letto, forse in un'intervista, dice non ci sarà pace nel mondo e non ci sarà sviluppo nel mondo se non ci sarà un nuovo ruolo delle religioni. E cita, a sostegno di questa sua affermazione, la necessità che abbiamo, se vogliamo capire quello che sta capitando in una parte molto significativa del mondo, i paesi arabi, in particolare i paesi del Mediterraneo, eccetera, cita la necessità di, se vogliamo capire quello che sta capitando lì, di ricollocare il tema della religione al centro della riflessione politica. Ora, qual è il contributo che oggi le religioni, le religioni cristiane in particolare, la religione cattolica, i cattolici in particolare, poi parliamo naturalmente, diciamo, di vicende soprattutto italiane, in qualche misura, di vicende del nucleo centrale dell'Europa, dove il tema è largamente quello del contributo dei cattolici. Io penso sostanzialmente che, diciamo, il contributo fondamentale che i cattolici danno, o possono dare, diciamo, che corrisponde anche, insomma, è una cosa di cui io sono molto convinto, è il contributo, diciamo, la trasmissione della consapevolezza, che soltanto una riflessione antropologica, che si affianca alla riflessione economica, alla riflessione, diciamo così, sociale, eccetera, soltanto una riflessione antropologica sulla natura dell'uomo, sulla sua prospettiva, sul complesso di umanità che la politica deve perseguire, sarà in grado, diciamo, può essere il contributo specifico, no? Il contributo specifico. Guardate che, se andate a rileggere il libro intervista di Bersani, pubblicato dalla Terza, diciamo così, quando descriveva la necessità di un nuovo umanesimo da costruire, indicava esattamente, nel riferimento, diciamo, alle grandi tradizioni religiose, in particolare alla tradizione religiosa del cattolicesimo, no? L'elemento che poteva... Allora, non c'è politica economica, non c'è politica di organizzazione sociale che oggi, se vuole guardare al futuro e ridare una speranza, no? All'Occidente così travagliato, non possa non prendere come punto di partenza una riflessione sull'uomo. Poi discutiamo su questo, ma il punto di partenza, quello a cui ci viene richiamato, no? Secondo me è questo. E su questo ho finito, ho finito, cito soltanto più un titolo di un tema che magari riprendo nell'intervento successivo. Su questo è vero che nella opinione, diciamo così, pubblica appare l'idea che le uniche questioni su cui i cattolici assumono, diciamo così, azione militante, sono in grado di sviluppare posizioni originali, eccetera, eccetera, sia la questione dei diritti, principi non negoziabili e cose di questo genere. C'è, guardate, una forzatura anche nell'opinione pubblica su questo, perché adesso mi verrebbe da citare, no? La lettura data della morte del Cardinale Martini, no? Facendo diventare un fatto centrale nella, una questione come quella del rifiuto dell'accanimento terapeutico, che è questione super pacifica, no? Super pacifica nell'elaborazione. Quindi, però mi verrebbe da citarlo, ma non lo cito, no? Non lo approfondisco. Dico solo una cosa. Guardate che oggi c'è stato un eco anche nel dibattito interno al PD di questo tema, che oggi, se c'è un momento, un punto, un luogo, in cui c'è una elaborazione, diciamo, sulle grandi prospettive dell'economia, no? Questo è in ambito cattolico, perché c'è stato un eco nel dibattito nostro interno, no? Perché il nostro responsabile economico nazionale ha addirittura fatto riferimento all'ultima enciclica del Papa, no? Per, diciamo così, ancorare alcune sue riflessioni, su cui adesso non voglio esprimere naturalmente le mie opinioni, ma non c'è dubbio che oggi, se una elaborazione avanzata sui temi del lavoro, del rapporto tra il lavoro e lo sviluppo, della sua centralità, sui temi del governo mondiale dell'economia, cioè tutte questioni che dobbiamo affrontare dal punto di vista politico, oggi la troviamo in una serie di elaborazioni del Magistero della Chiesa. Qual è il problema, dal mio punto di vista? Che lo troviamo lì. C'è una, e concludo, c'è una debolezza dei laici cattolici italiani oggi, perché una elaborazione di questo genere, 30 anni fa, 40 anni fa, sarebbe nata in ambito, diciamo, sarebbe nata ai corsi annuali di elaborazione culturale dell'università cattolica, piuttosto che in qualche ambito. Oggi nasce all'interno del Magistero della Chiesa. È molto importante questo, naturalmente, ma segnala anche una debolezza, una debolezza complessiva dell'azione dei laici che si riflette naturalmente anche nel ruolo che i laici cattolici hanno all'interno delle formazioni politiche in cui militano. Grazie. Intanto tra gli innumerevoli, illustri ospiti che bisognerebbe salutare, parlamentari, ministri, eccetera, eccetera, mi limito a dire che è arrivata tra noi la padrona di casa, cioè Paola Bragantini, segretaria del PD provinciale. La ringraziamo. e do la parola a Giampiero Leo. Grazie molte. Innanzitutto due premesse che ci tengo a fare, non formali. La prima, carissima segretaria Bragantini e tanti amici e colleghi del PD, grazie per l'invito, grazie per l'iniziativa, è estremamente gradita. Seconda cosa, lo dico a mo' di battuta, ma non è una battuta, se quella dell'onorevole Suave fosse stata una relazione a un convegno a cui partecipava a un congresso avrei votato a favore a quella relazione, senza, si dice adesso, senza se, senza ma, anche perché era da un pezzo che desideravo sentire dire, ma Suave di una tale rigore e generosità e cultura che non è, come dire, sono entusiasta, che la democrazia cristiana aveva ragione. Meglio tardi che mai, insomma, sono contento. Io l'ho sempre pensato. Io non mi considero un ex-democristiano, ma un democristiano momentaneamente disperso. Dopodiché, certo, l'analisi di Gianfranco Borgando è molto profonda e a me interessa moltissimo sentire il parere di Marco Calgaro, che in altre occasioni di riunioni, di coordinamento cattolico, ha espresso su questo ipotesi, posizioni più possibiliste, comunque molto interessanti. Io mi permetto solo di dire che è vero che la storia non si fa coi sé e coi ma, ma per chi ricorda la storia, come me l'ha vissuta, se per esempio quando stava venendo avanti in maniera così prepotente e violente il bipolarismo, la posizione di Guido Bodrato, che era per tre poli, spero che qualcuno lo ricordi, che teorizzava almeno il tripolarismo in Italia, fossero state maggioritarie, secondo me noi avremmo una situazione politica molto diversa e io penso anche molto migliore, però insomma le cose sono andate così, allora mi ricollego al filone della storia, mi ricollego alla bellissima relazione storica che ha fatto l'onorevole Suave e cerco di dare, diciamo, delle comunicazioni, delle notizie, anche perché l'onorevole Suave ha inquadrato molto bene la questione, è vero, dieci minuti ci costringono a essere semplicisti, poi i cattolici abituati alla teologia siamo anche un po' complicati, qui qualche amico potrà poi dirmi questa cosa non era esattamente così, quello che dirò ne sono convinto, prendiamolo diciamo in linea di massima. Allora in linea di massima possiamo dire che oggi, 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 adesso, a partire in particolare dagli ultimi due o tre anni, la situazione si è configurata bene, come ha detto Suave con gli interventi di Morgando, cioè si sta riproponendo in qualche modo una questione cattolica, è vero, è vero il mondo cattolico, laicato cattolico e non solo, negli ultimi venti, trent'anni ha indubbiamente perso colpi, oggi la dottrina di Benedetto XVI, manca un'attenzione grande dei pastori italiani ed europei a posto di nuovo al centro della riflessione dei cattolici, l'impegno politico, non c'è una omelia in cui questo non si è ricordato e per chi ha partecipato con l'incontro col nostro arcivescovo Monsignor Nosiglia, io citerò testualmente dalla sua lettera, questa è stata fortissima, dopodiché abbiamo avuto molti altri incontri, qui ci sono presenti alcuni amici che fanno parte di importanti associazioni cattoliche e anche del coordinamento cattolico come il professor Bruno Geraci, il professor Palestro e tanti altri amici cattolici autorevoli. Ripeto, quindi ringrazio Paolo Bragantini, Giorgio Merlo, quanti insomma hanno voluto organizzare questo dibattito, qual è oggi la situazione, non è dogmatico, qual è una lettura, un approccio alla situazione e io penso di fornire anziché analisi proprio qualche dato, a livello nazionale conoscete il discorso 8 di 1, 8 di 2, si è creato un coordinamento guidato da alcuni vescovi, in particolare Monsignor Simoni, c'è la carta d'intesa che è stata firmata da più di 300 associazioni cattoliche che hanno una sensibilità politica, si è creato il coordinamento sociale cristiano, io faccio parte in rappresentanza del Piemonte, di realtà piemontesi, di questi organi e devo dire che le questioni che avete posto sono aperte, non c'è nessuno che abbia detto bisogna rifare la democrazia cristiana, c'è anche qualcuno però ha detto non è un dogma dire che i cattolici non debbano trovare il massimo di unità, allora questo documento, la carta d'intesa del 2011-2012 riparte dall'appello di Benedetto X e dice, poi che conoscete perché è molto famoso, è stato fortissimo, ha chiesto una nuova generazione di cristiani impegnati in politica, nel doppio senso di giovani cristiani ma anche di una generazione, una rigenerazione dei cristiani impegnati in politica, il cardinal Bagnasco lo ha ripreso e sviluppato adeguatamente, poi potrete dire ovviamente ogni realtà laicale la interpreta come vuole, sto solo dicendo quale dibattito c'è, ecco questi appelli dice la carta d'intesa firmata da oltre 300, ogni giorno se ne aggiungono, ci sono centri sturzo, centri degasperi, movimenti culturali, scuole dottrina sociale cristiana, tantissimi che stanno aderendo, molto in piccolo richiama il movimento dell'opera dei congressi, ebbene dice nella base e nei vertici del multiforme, perché indubbiamente multiforme, associazionismo ecclesiale nazionale e dei soggetti cattolici più impegnati a livello sociale e civile, non che in molteplici istituti e gruppi di formazione e cultura sociopolitica notti in Italia oppure operanti a livello locale, sono cresciute l'attesa e la disponibilità verso una nuova configurazione, che ripeto non è necessariamente, però è sicuramente un nuovo protagonismo, di questo che io leggo non c'è una virgola mia, è una relazione fatta a nome di queste decine e decine di associazioni dal Vescovo Monsignor Simoni. Tutto ciò finalizzato, e questo è il punto che mi permetto di dire con forza, come contributo, che io ritengo molto più autorevole di una mia posizione personale, io poi condivido, ma questo conta poco, ovviamente mi fa piacere essere così, fra virgolette, in comunione, tutto ciò finalizzato all'obiettivo di una più effettiva visione unitaria da parte dei cattolici, di una più effettiva visione unitaria da parte dei cattolici. Quindi esiste uno specifico cattolico, l'hai spiegato benissimo Sergio storicamente, certo non di tutti i cattolici, fuori discussione, su alcune cose, come diceva giustamente Gianfranco, c'erano già chiari i tempi della democrazia cristiana, quindi non le riprendo neanche più, però c'è questo forte appello per il bene comune, questo è un obiettivo costante del mondo cattolico, questo richiama un bene comune, il meno possibile partigiano, il più possibile universale, nazionale e internazionale, e da un loro più concreto raccordo organizzativo e operativo. Quindi l'appello fortissimo che arriva ai cattolici di essere più uniti e di darsi un coordinamento, un momento di lavoro comune. Fin dove può arrivare questo? Ripeto, poi queste sono le opinioni di questo vastissimo coordinamento e sono condivise, lo sappiamo tutti, ormai dalla stragrande dei vescovi italiani, per carità qui ognuno, ripeto, siamo ovviamente laici, poi ci sono i laici più sensibili al mondo cattolico, ci sono laici di una laicità cristallina come Roberto Placido, stare altro, c'è qualcuno laicista, per esempio, mi permetto una sola battuta per non essere totalmente ecumenico, quando l'ex presidente Bresso diceva che i cattolici non hanno né una storia né una cultura, mi ricordo quando si fece il PD e le fecero l'intervista sull'unità Repubblica, ricordate, vero, chiedendo come si fa a fare il PD, sondare la cultura cattolica con quella di sinistra, le disse non c'è problema perché i cattolici sostanzialmente non hanno una cultura, ma hanno copiato un po' a destra, un po' a destra, scusa, lasciami un pochino, ecco, grazie, anche perché c'è, ma Gianfranco, Gianfranco che è il padrone di casa, vabbè, vabbè, comunque che mi fa proprio piacere, per cui quando disse quello Gariglio, Lepri, io e tanti altri facemmo una colletta e le regalammo un metro di libri per dire che c'era una cultura cattolica, che se li leggesse insomma, per cui voglio dire questo almeno, per cui io distingo fra posizioni laiche e laiciste, i colleghi che ho citato per grande fortuna non abbiamo la totale sintonia su tutto, sarebbe troppo bello, non cito le cose su cui siamo in disaccordo perché sono etiche, ma comunque, e quindi dicevo, vado a terminare questo passaggio nell'ambito di questa più propizia stagione che sta vivendo da qualche anno l'articolato movimento cattolico italiano si colloca anche l'intesa di una serie di gruppi e organismi laicali, centri culturali eccetera, variamente impegnati nella società e nella cultura e fortemente interessati ad una più coerente ed incisiva azione politica, politica di ispirazione cristiana. Come vedete non ricorre il termine partitico, però politica è detto con molta forza, quindi è meno che partitica ma è più che culturale. Termino, a cosa è finalizzata questa cooperazione e su cosa si deve basare? La loro cooperazione è finalizzata uno a ridestare nel popolo cristiano l'interesse per il bene comune, da cui le osservazioni giustissime che Soave e Morgando facevano di come il laicato cattolico abbia perso colpi, quindi il primo lavoro è interno e di formazione e poi il bene comune lo dimentichiamo tanti, non voglio assolutamente, ripeto, essere né partigiano né minimamente integralista, non è affatto detto che oggi i cattolici diano una testimonianza più alta del bene comune, però c'è un richiamo fortissimo, grazie a Dio, un richiamo fortissimo, una dottrina, una mortificazione, una richiesta di scuse, cioè c'è un richiamo fortissimo che noi troviamo entusiasmante a ricostruire una politica per il bene comune, per cui ho anche idee, ma qui non mi hai fatto domande su future alleanze, su tutto, cioè sono a 360 gradi. Seconda cosa, secondo punto, a formare, collegare stabilmente movimenti, iniziative giovani e meno giovani sul piano pre-partitico, quindi c'è questo appello fortissimo, non è nuovo, padre Bianchi aveva scritto una cosa simile, ricordate, a collegare i cristiani sul piano pre-partitico per ragionare insieme, per ragionare insieme per cosa? Per il bene comune. Qual è il riferimento fondamentale? E su questo chiudo, riferimento fondamentale è ovviamente con la fede, la dottrina sociale cristiana tutta intera, quindi le parti che abbiamo citato, i principi diciamo fondanti, ma anche tutto il resto dell'arco dottrina sociale cristiana. Mi permetto in chiusura due cose, con un gruppo di amici, poi magari qualcuno potrà intervenire, non solo nazionale, si sta lavorando su questo, secondo. Seconda cosa devo dire, se mi chiedono se sono riconoscibile come cattolico in consiglio regionale, a parte quando Placido mi chiama a sua eminenza quando mi dà la parola, a parte questo, come dire in consiglio regionale, i cattolici, non abbiamo una grande incisività, questo avete ragione, però alcune battaglie, per esempio penso a quella sulla parità scolastica, la quale non abbiamo avuto il consenso per nulla di Placido, che però aveva riconosciuto che era una battaglia cattolica legittima, mentre Gianfranco, alcuni esponenti del PD, come vedete faccio sempre come Giuliana Manica, diceva che era una battaglia inaccettabile, che non si poteva neanche porre, che era eversiva, e allora vedi che ci sono, per carità, quante ce ne sono nel PDL manco lo so, per esso il conto, di posizioni diverse, però voglio dire, in questo i cattolici siamo, poi, come dice l'arcivescovo, lavorare con solo una volontà, la battaglia sugli oratori, con stare Placido, sappiatelo, l'abbiamo fatta insieme, ecco, quindi in buona sostanza io credo e chiudo che vada riscoperta e studiata per noi cristiani, ma offerta a tutti, il grande contributo al Trio Sociale Cristiana, quando con gli amici, il capo greco, Roberto Paroli, tanti amici in università, lei lo polevamo, ci prendevano per il sedere, ci dicevano il marxismo, oggi il marxismo, poi il marxismo, il comunismo è franato, allora il capitalismo è franato anche quello, allora forse questa dottrina sociale cristiana non era così sconsiderata, quindi riprenderla come base, ragionare e una volta affastino la turco e io, è vero che facevamo addormentare tutti, facciamo dei dibattiti su questo, in maniera più vivace questo confronto sulla ricchezza dottrina sociale cristiana e di un soggetto volto al bene comune, secondo me può riprendere, grazie che è ripreso alla festa del PD, grazie molte, grazie. Grazie, c'è qualcosa che si muove, insomma come sospettavamo, intanto che passo il microfono a Calgaro, devo anche dire una cosa che per molti non sospettano, la Bragantini che è segretaria provinciale, è stata anche una fine, una fine studiosa di una dimenticata rivista cattolica toscana e ha fatto una tesi di laurea superba, 110 lode, dignità di stampa, eccetera, eccetera, poi non l'ha stampata, tant'è che io le ho sempre consigliata, consigliandola male, di continuare gli studi e di non mettersi in politica e invece siamo qua. Però come regione potremmo farla stampare? Oh bravo, fai un'opera buona, è una cosa bella, adesso, placido e d'accordo, vabbè, diamo la parola a Calgaro, tu sei andato un po' fuori, come ospite più estremo, vabbè. Ah sì, 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 è vero, di tutta la comunità, va bene, ciao. Allora, bando ai saluti, ringrazio molto per l'invito invece la segretaria provinciale e passo a tre o quattro considerazioni. La prima, io sono convinto che il tema dell'irrilevanza dei cattolici in politica è tutto interno al mondo cattolico. Cioè, voglio dire, il motivo per cui a un certo punto si è considerato un dogma, e alcuni purtroppo lo considerano dogma ancora oggi, il fatto che i cattolici possano insieme elaborare una proposta politica, non il partito dei cattolici, ma un partito di cattolici, beh, io credo che sia un dogma che è stato utile anche al mondo cattolico, anche ai vescovi, proprio per, come dire, non far emergere a sufficienza un dibattito che all'interno del mondo cattolico era un dibattito non costruttivo, che portava a scontri anche molto forti. Credo una seconda cosa, che quando, che vedete, forse sono un po' anomale in questo, ma io non sono venuto qui a difendere la mia appartenenza di cattolico ad un partito. Io sono venuto qui a parlare della mia difficoltà come uomo e come credente oggi a riconoscermi in una realtà di partito e in una realtà bipolare come quella italiana di oggi. E credo che, e questo fa sì che anche se i cattolici, quando hanno provato costruire un terzo polo, si ricordava prima con Gianfranco, c'eravamo dentro sia io che lui e anche altri in questa sala, siano stati sconfitti elettoralmente, intanto, e anche Gian Piero, intanto io credo, guardate, che dal mio punto di vista, beh, le sconfitte nel tempo hanno anche delle motivazioni personali. Io credo che, ad esempio, nella mia opinione, se Martina Zoli non avesse considerato una schifezza il 18% che aveva preso alle elezioni a un certo punto, credo che un partito di cattolici avrebbe potuto dignitosamente continuare a esistere in questo paese. E credo che questo sarebbe stato un bene anche per questo paese. Penso poi che, come dire, il tema che tu hai citato inizialmente e in cui io mi riconosco totalmente, cioè qui stiamo a parlare dei partiti, oggi il tema è, in questo mondo globalizzato, lo strapotere dell'economia e della finanza è l'irrilevanza della politica. Perché la politica è irrilevante? Io credo perché, anche perché, anche perché, una politica, così come la sta organizzando sempre di più e sempre più diffusamente il mondo occidentale bipolare, in realtà è una politica che nega le culture dell'appartenenza e quindi nega la possibilità a ciascuno di elaborare culturalmente delle proposte forti in base alla sua appartenenza. Ne sono convinto perché, guardate, sia l'esperienza americana sia l'esperienza italiana soffrono della stessa situazione ai miei occhi. Sinceramente, io, guardate, credo che il problema dei cattolici è quello che non hanno più fatto chiarezza al loro interno, ma come può un cattolico, se guarda alla dottrina sociale della Chiesa, non essere socialmente avanzato? Impossibile. Come può un cattolico oggi, se guarda alla dottrina sociale della Chiesa, votare Romney negli Stati Uniti? Con la pretesa di difendere alcuni valori etici. Ma dall'altra parte, come può un cattolico oggi votare un'aggregazione che antropologicamente si riconosce e porta avanti, come fa per esempio il Partito Socialista Europeo. E' un modello di uomo che secondo me è così antitetico rispetto ai miei valori che diventa problematico anche costruirci un'economia attenta all'uomo dietro questa cosa. Mi spiego, guardate, io credo che oggi il problema più grande che abbiamo in Europa e nel mondo è, come dire, questa cultura turbo individualista. Questa cultura turbo individualista è assolutamente quella che porta avanti la più parte dei disvalori che oggi secondo me la parte preponderante della sinistra europea porta avanti. cioè io credo che la difesa della famiglia concepita come uomo e donna all'interno della società europea e della società mondiale sia la difesa di qualcosa che è alla base della costruzione di un'economia di giustizia e di realtà che funzioni. E credo che la difesa e l'attenzione alla vita non mi interessano perché sono valori non rinunciabili, mi interessano perché? Perché se io voglio costruire un'economia attenta all'uomo ed io solo so, sa quanto ce n'è bisogno, se io voglio costruire questo non posso pensare all'uomo come qualcosa che è irrilevante e vale di meno quando ha qualche problema. Perché se faccio questo io do un così scarso valore all'esistenza umana nei fatti che di sicuro non riuscirò a costruire un'economia di comunione, un'economia attenta all'uomo, un'economia attenta alla famiglia, un'economia che sia attenta a quelli più deboli. Insomma io credo che questi problemi siano problemi che rientrano in quella discussione antropologica di cui parlava Gianfranco prima, che però mi fanno dire che forse oggi sarebbe bene che ciascuno giocasse la sua parte e che ci fosse il tentativo da parte del mondo cattolico di costruire, e lì c'è la sua debolezza, certo il mondo cattolico l'ha detto Gianfranco, è culturalmente debole, voglio dire la dottrina è molto avanzata perché quando uno legge la Caritas Invaritate oggettivamente trova un modello di economia, un modello di società che secondo me è un modello sul quale varrebbe la pena che tutti insieme riflettessimo, però dal punto di vista della elaborazione politica di questi valori il mondo cattolico è debolissimo. È debolissimo anche perché vedete noi cattolici nel tempo, stando dispersi nella politica italiana, siamo ospiti, siamo ospiti nei partiti di cui facciamo parte e quando uno è ospite è difficile riuscire a portare avanti un progetto in cui si riconosce, si confronta con gli altri e trova una mediazione. Allora io credo che mentre troverei naturale per un cattolico l'alleanza con un partito di sinistra, socialista è possibile e però credo che per un cattolico oggi sia indispensabile e doveroso riuscire a costruire un progetto di società, di uomo, un modello da proporre perché sono convinto e questa, cioè voglio dire, io voglio dire non sono tra quelli che, non sono tra i cattolici che puntano ad essere minorità, io sono convinto che non siano più validi i motivi per cui la democrazia cristiana ha avuto tutto quel successo che ha avuto, i motivi storici. Ritengo però che se i cattolici sapessero tradurre in un modello economico e in un modello sociale il loro modo di vivere e la loro, come dire, l'idea che hanno di uomo, beh io credo che la traduzione in proposte per la società attuale di questo modello sarebbe una traduzione che potrebbe riscuotere grande successo anche oggi e credo che sarebbe, come dire, come sempre molto pericoloso che poi i cattolici da soli vivessero questa progettualità, ma credo che abbiano bisogno, io sono tra quelli che pensano che i cattolici hanno bisogno di ritrovarsi, di ridiscutere insieme e di proporre modelli a questa società globalizzata che di modelli purtroppo non ne ha più. se non, perché io non concordo, io vado spesso d'accordo con Giampiero, non concordo su una sola cosa che ha detto oggi, il capitalismo non è sconfitto per niente, il capitalismo è un problema enorme ancora oggi mentre il marxismo non lo è più, il capitalismo è un problema reale per la società di oggi perché il capitalismo associato al turbo individualismo di cui parlevamo prima è esattamente la fonte dei nostri guai e io credo che la nostra riflessione dovrebbe ricominciare in modo non, come dire, oppositivo, non da nemici ma ciascuno secondo me dovrebbe ricominciare a fare meglio la propria parte e credo che i cattolici la farebbero meglio all'interno di un contenitore che non è il partito dei cattolici ma un partito in cui i cattolici elaborano delle proposte per questa società credo che questa sarebbe una cosa utile ed è per questo che io non mi riconosco in un coordinamento di cattolici del centro-sinistra o del centro-destra mi rincresce ma vorrei che i cattolici incominciassero a riflettere più a fondo e a trovare soluzioni a questa schizofrenia che è stata la loro dannazione negli ultimi 30 anni secondo me da una parte un'estrema tensione verso il sociale e dall'altra un'estrema tensione solo ai valori non rinunciabili credo che se non componiamo questa cosa, non proponiamo un modello di società e di economia di nuovo a questo paese non abbiamo fatto il nostro dovere, questo è il dovere che io sento di avere Bene, ci saranno tante suggestioni per dopo ma adesso sentiamo Ugo Perone E' più difficile parlare per ultimo in un certo senso perché si è alla tentazione di intervenire sugli interventi degli altri e forse questo non è neanche positivo ma io partirei da una prima considerazione biografica Giampiero Leo ha detto lui è sempre stato democristiano lo è tuttora Io non sono mai stato democristiano ma questo non lo dico, non è una rivendicazione di titolo di merito né di colpa Io guardando indietro la storia politica del nostro paese riconosco l'importanza e anche il ruolo positivo che alla democrazia cristiana ha svolto, una delle ragioni per cui io non ero democristiano quando la democrazia cristiana c'era era piuttosto una ragione di tipo ecclesiale nel senso che nonostante la differenza che giustamente si poteva fare tra essere cattolici ed essere democristiani perché non tutto si unificava io vedevo allora il pericolo di un trascinamento della dimensione cattolica universale in una forma partitica questo lo dico per far presente che le sensibilità nel mondo cattolico sono ovviamente molto varie, molto composite e in ogni caso penso che l'esperienza che noi stiamo facendo non porti alla possibilità di una riproposizione di un partito di cattolici che sarebbe oggi intanto un partito, io credo nonostante quello che dice Calgaro, penso che sarebbe un partito di minoranza ma non è tanto questo il punto delicato, il punto delicato che io vedo è che risolverebbe la questione cattolica in una questione di equilibrio tra componenti, cosa che è avvenuta drammaticamente in questi anni per esempio la direzione che ha avuto la chiesa e l'episcopato sotto la guida di Ruini è stata quella di accettare che la chiesa non rappresentasse più in modo veramente vasto l'universalità del popolo italiano accettare che la chiesa fosse un elemento di minoranza ma da questa posizione di minoranza trattare il che mi è parso molto negativo per la chiesa perché la finisce di trattare perdendo di vista invece quello che è il centro del messaggio cristiano cioè proprio l'universalità dei problemi, di diventare una delle forze in campo da questo punto di vista io anche ritengo che il problema dei cattolici non riguardi solo i cattolici riguarda i laici, anzi a me verrebbe da chiedere a un panel di laici di dire che cosa si aspettano e qual è il ruolo che possono avere dei cattolici in politica perché io credo che dovremmo vedere in un contesto come il nostro il problema anche da un punto di vista rovesciato sappiamo tutti c'è una drammatica crisi di ideologie guardate i partiti che sono diventati partiti di appartenenze personali di fronte a un vuoto di quadro ideologico rischia di prevalere e di fatto oggi sta prevalendo una visione tecnocratica della politica e ci si domanda qual è il ruolo dei cattolici ma il ruolo dei cattolici è quello o dei credenti in una religione è quello di rivendicare da un lato la laicità della politica perché la politica non è uguale alla religione non lo è e quindi è sempre molto opinabile quello che si fa in politica ma dall'altro rivendicare che la politica non può vivere se non sulla base di forze spirituali e queste forze spirituali non sono solo la religione ma certamente sono anche la religione allora questo secondo me è un problema che non tocca solo i cattolici tocca anche i laici perché è drammatica la carenza io non credo che il problema fondamentale sia l'etica perché rischia l'etica di diventare una specie di nuova di nuovo test di diritto questo è lecito questo non è lecito c'è un problema ancora più radicale più profondo che è quello dell'orizzonte della prospettiva del senso allora non sono solo i credenti che detengono la chiave per rispondere a questo problema ma certamente i credenti dispongono di una serie di spunti per intervenire su questo problema allora perché io per la prima volta in vita mia aderendo ad un partito ho aderito al PD proprio per il carattere che il PD sembrava poter avere di essere un luogo dove non è che si facesse una mescolanza di una composizione una sommatoria di posizioni di tradizioni socialiste religiose di cattolicesimo democratico eccetera no ma un luogo dove si affrontava il tema della politica andando a ciò che era essenziale e che può andare anche al di là della mia appartenenza specifica religiosa o non religiosa ma quella può attingere allora io certo che non posso stare insieme a persone che ritengono che la religione sia una pura e semplice superstizione perché non li vedo interlocutori per me ma naturalmente posso stare insieme a persone che non sono religiose questo sì è normale anzi nella nostra vita è sempre così allora un partito che abbia la capacità di affrontare le questioni non soltanto in termini tattici ma in termini di prospettiva globale di quell'umanesimo di cui si parlava di globalità il tema del capitalismo oggi il tema del futuro il tema della natura il tema dell'ambiente il tema di che cosa è l'uomo e che cosa ci sta a fare questo è un partito dove se ci ascoltiamo reciprocamente a partire da tradizioni diverse può venire fuori qualcosa di buono io posso solo dire che c'è stato un tempo nella mia esperienza nella prima giunta Castellani e solo nella prima giunta Castellani in cui ho avuto la sensazione avendo di fianco a me persone che provenivano da tutt'altra tradizione che ci si ascoltasse con rispetto e con profondità allora io quello che chiedo a un partito è solo questo io non gli chiedo di difendere le posizioni cattoliche che tra l'altro io non so bene in che cosa strettamente consistano io gli chiedo di ascoltare in fondo fino in fondo e andare l'essenziale andando al di là delle opposizioni qui una cosa va detta a molte posizioni laiche o laiciste c'è una forma di laicismo che tenta di identificarsi come una forma di ideologia anti ecclesiastica che è un pericolo drammatico è un pericolo drammatico perché produce per contraccolpo un irrigidimento di molti cattolici ma soprattutto fallisce le questioni che affronta perché le questioni di fine vita o di inizio vita eticamente sensibili guardate non c'è nessuno che ha una risposta in tasca assolutamente data e la cosa vera da fare è affrontarle con radicalità ma senza la posizione anti ecclesiastica o anti religiosa da una parte o viceversa una posizione rigidamente dogmatica dall'altra questo è il messaggio queste cose si sono fatte poco perché molti hanno in questi anni pensato alla questione cattolica piuttosto come a una questione appunto tattica e di potere hanno magari dialogato con martini ma trattato con ruini allora questa è quello che non andava mai fatto e io capisco la difficoltà perché con martini cioè simbolicamente parlando era più difficile trattare perché non si trattava di trattare lì e allora la presenza dei cattolici non è quella che portino delle cose su cui bisogna trattare ma portano una sensibilità che ci obbliga ad andare al di là di certi schemi questo secondo me sarebbe davvero la prospettiva ultima considerazione da quello che diceva Calgaro io tendevo a capire questo sarebbe bello se i cattolici ritrovandosi insieme arrivassero ad una forte piattaforma che non è solo politica ma è davvero una prospettiva poi naturalmente siccome probabilmente non arrivano alla maggioranza si alleeranno con qualcuno è logico che in politica venga così non capisco la differenza tra questa alleanza e quella che tu hai usualmente anche all'interno di un unico partito pur avendo delle posizioni diverse in politica purtroppo nessuno di noi è in grado di far diventare patrimonio condiviso da tutti quella che è la sua visione e in politica si scende sempre il che non è affatto negativo a dei compromessi beh si può scendere a dei compromessi non vedo la differenza tra questi compromessi tra due partiti che si allenano e tra due posizioni o tre o quattro posizioni che andando a fondo dello spirito che li anima all'interno di un partito come potrebbe come può avvenire dentro il PD arrivano ad una composizione ultimissima considerazione la Chiesa e lo dico sentendomi davvero appartenente a essa avrebbe un ruolo pre-politico fondamentale ed è qui che probabilmente in questi anni i cattolici e la Chiesa ha perduto molto del proprio smalto e del proprio contributo perché non tutto lo dobbiamo risolvere in politica non tutto, questa è una visione marxista inaccettabile non tutto si risolve in politica per quanto la politica sia importante dunque ci sono una dimensione pre-politica dove sì i cattolici in quanto appartenenti alla medesima Chiesa hanno fortissimi elementi di unità e capacità creativa ma probabilmente è bene tenere distinti questi due momenti bella grazie Ugo anche perché la densità dei tuoi concetti non è andata contro la definizione proprio perfetta del tempo in cui sei stato dunque sono le 7.27 si può chiudere qua però se c'è qualcuno che alza una mano e fa domande possiamo vedere di fare poi una breve replica che si porta alle 8 meno un quarto dai il quarto d'ora di sforamento ci sta c'è qualcuno che vuole fare domande? allora come i banditori è uno è due è tre e allora diamo la parola questa volta no adesso no già sa sa Aleo dai però due minuti ti faccio proprio dai due minuti è un dibattito utilissimo e volevo soltanto fare una specifica una specificazione per chiarezza all'intervento di Marco che condivido come in molte altre occasioni in maniera fortissima ma ho trovato molti momenti di contatto con tutti però volevo solo dire Marco mi correggo se non mi sono spiegato io considero appunto il turbo capitalismo una tragedia avevo detto malamente ha fallito il fatto come dire concettualmente che continui a fare danni hai ragione tu cioè che bisogna contrastarlo quando poi mi permetto questa battuta i comunisti cinesi si impossessano del capitalismo poi alla fine del mondo è proprio il peggio del peggio quindi in questo senso all'approfondimento della dottrina sociale cristiana e tutto quel lavoro che Gianfranco che tu che dicevate faccio soltanto un'ultima osservazione e poi una citazione dell'arcivescovo Nosiglia per i cattolici in politica io la carta questi documenti di cui parlavo ma Marco lo sa probabilmente intendeva altro non sono un coordinamento di cattolici del centro-destra o del centro-sinistra questo lo sai anzi mi permetto di dirti che hai partecipato e hai dato un contributo profondissimo e proprio Casini mi ha chiesto di parlare con te di questa cosa perché è un coordinamento assolutamente il più possibile unitario trasversale è molto grande dove per esempio i temi però date posti grazie a Dio sono considerati non come un antidogma cioè è vero che non c'è più il dogma ma lì non c'è le tue posizioni sono mentre c'è quasi un dogma come hai detto tu che non si possa neanche discutere di quelle quindi ti ringrazio dico soltanto una cosa stiamo attenti a destra a sinistra sopra e sotto a non considerare la chiesa come si è fatto in passato come un arancio un mandarino anzi di cui prendi degli spicchi io mi ricordo qualche amico di destra cioè questo della chiesa mi piace questo no quindi lì il papa sbaglia da sinistra viceversa se uno si misura con la dottrina sociale cristiana la fa tutta intera non se la fa a pezzettini lo sforzo che noi facciamo con i nostri amici è di riflettere sulla dottrina sociale cristiana tutta intera perché uno io mi ricordo il lotempore quando il lotempore amici di destra dicevano il vescovo del Nicaragua quando contestato i sandinisti è bravo invece quando critica Pinochet è cattivo e viceversa per la sinistra come è cattivo il vescovo del Nicaragua bandogli bravo perché contesti comunisti dicevano le stesse cose sia il vescovo del Nicaragua che del Cile dicevano la dittatura no una comunista una fascista ma dicevano no in questo senso concludo con questa ultima citazione che è pubblica è la lettera mandata dall'arcivesco Nosiglia sul quale penso sia un terreno di stimolo di lavoro nella nostra autonomia diceva quanti sono uniti dalla medesima fede anche se militano in partiti diversi ma dicevano è obbligatorio non devono mai far venire meno la ricerca dell'unità attorno ai valori fondamentali che la dottrina sociale della Chiesa offre come luce e guida per l'agire politico se non si prendono sul serio queste cose lo dico a me stesso ma Ugo a tutti cioè uno come dire oggi vanno di moda tutti quelli fai da te però non possiamo dire che nel solco della Chiesa aggiungendo poi ricordando che oltre all'unità nella fede c'è anche l'esigenza di collaborare con gli uomini di buona volontà ugualmente impegnati ultima cosa l'arcivescovo e secondo me oggi la Chiesa ha due meriti fondamentali uno insistere sul bene comune due aver condannato inizialmente e ho apprezzato quello che ha detto Bersani su Grillo l'antipolitica mentre l'antipolitica galoppava se leggete questa lettera dell'arcivescovo è tutto un elogio un sostegno che si impegni in politica in questo senso per carità non do io la palma a nessuno mi sembra che la politica più antisociale più devastante più anticristiana sia quella di Grillo non è il solo che poi faccia anche la vittima veramente c'è un limite a tutto sono persona di grande carità ma anche perché quest'estate è stato in un posto è stato in vacanza lui e racconterò solo in privato cosa mi hanno raccontato grazie grazie ancora per l'invito grazie a tutti adesso il gossip su Grillo penso che interessi tutti voglio dire non vorrei andare fuori tema mi fermano tutti dopo ho tutti la ragione per stare poi dopo sentiamo che andrò c'è una domanda no no benissimo l'ho fatto non per in modo automatico allora no no io volentieri ma guardate cioè rimango molto semplicemente delle mie idee e delle mie convinzioni anzi io sono convinto che questo richiamo all'unità all'unità dei cattolici sui valori non rinunciabili e a loro possibilità di stare in tutti i partiti poi comportandosi come una falange macedone quando si tratta di difendere i valori non rinunciabili io lo vedo come una cosa che A non ha funzionato B continuerà a non funzionare per motivi molto semplici che sono quelli che poi all'interno di ogni partito come diceva giustamente Ugo ci cerca una mediazione c'è una disciplina di partito eccetera eccetera e io credo invece sinceramente che sia invece molto più come dire limpida la volontà di costruire un progetto politico a tutto tondo che non sia soltanto la difesa dei valori non rinunciabili ma che veda un progetto di società con il quale confrontarsi con altri e ritengo questo perché e questo è l'unico punto su cui non sono d'accordo con Ugo Perone sinceramente a me sembra che oggi i cattolici nei grandi partiti siano ospiti e non parte cogente del progetto del partito tant'è che la grande progettualità europea cui rispondono i maggiori partiti italiani con difficoltà può essere fatta rispondere a qualcosa che somiglia alla dottrina sociale della Chiesa sembra giusto lasciar chiudere a Gianfranco due osservazioni una per dialogare ancora con te con Marco Calgaro cioè quello che tu dici che mi obietti è un dato empirico sul quale potrei anche darti ragione cioè le cose stanno come dici tu ma è un dato empirico che dice che la presenza dei cattolici è insufficiente nella loro capacità elaborativa e non solo nella loro capacità di trattativa ma proprio nella loro capacità elaborativa ma questo è un dato empirico che non rinnega la possibilità che questo avvenga quindi è una cosa un po' diversa non mi pare per esempio che laddove siamo in presenza di partiti a titolarità cristiana faccio l'esempio tedesco ci troviamo di fronte ad una particolare visione umanistica che dia questo entusiasmo per cui dici ecco francamente finalmente frau Merkel rappresenta l'umanesimo cristiano eppure lì abbiamo un partito di cristiano democratici quindi non vedo che neanche lì empiricamente abbiamo ottenuto dei risultati stravolgenti l'altra considerazione è questa io ho avuto occasione in una in una serata di lavori all'interno del PD di parlare in modo più dettagliato e approfondito di questo ma vorrei risollevare un pochettino i cattolici i quali si sentono quindi anche me stesso i quali si sentono ogni tanto marginalizzati guardate che la cultura cattolica ha poi prodotto anche sul terreno politico dei risultati più rilevanti di quanto gli stessi cattolici credano faccio un solo esempio il concetto di persona che è un concetto tipicamente storicamente è stato così è un concetto tipicamente di matrice religiosa il glorioso partito comunista non lo usava mai mai tutti a partire da D'Alema oggi usano si avvalgono di quel concetto naturalmente non dicono che questo li ha fatti diventare cristiani no non sono diventati cristiani ma questo vuol dire che quando c'è una merce da mettere in circolazione se ce l'hai perché se non ce l'hai poi non puoi neanche lamentarti che non ti ascoltano e se la tua posizione è puramente giuridico trattativistica questa è la posizione debole ma se tu hai dei contenuti guarda che in questo momento sono i contenuti che mancano sono i contenuti che mancano e quindi ci sarebbero porte aperte se non li abbiamo la colpa è nostra bene una domanda ti androtti ma una domanda eh no no non ti do il microfono perché non fa la domanda fa grida così così ci sentiamo non mi sembra che questo è un tempo nel quale la 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 della religione è sempre minore perché la gente è trascinata da una cosa di ateismo dalla ragione economica quindi non la distruzione del valore del bene mi ha detto a cui bisognerebbe anche anche loro perfetto bene diamo allora o avete capito che qui c'è materia attraverso anche la cordialità nonostante la cordialità dei rapporti di molte molte precisazioni specificazioni di un altro lungo dibattito magari di un bel seminario che duri un pomeriggio un fine settimana ma insomma questo lo demandiamo il buon cuore di Gianfranco Morgando per la prossima organizzazione di qualche cosa no ma grazie io naturalmente prenderò pochissimo tempo per concludere questo incontro anch'io come diceva Sergio penso che dovremmo riprenderlo ne abbiamo già parlato molte volte nel PD naturalmente credo che riprenderemo un tema che è molto importante anche per la prospettiva politica del nostro partito io adesso in conclusione voglio solo dire due cose la prima è questa è vero che non c'è un dogma che impone la divisione dei cattolici e che impedisce la ricerca di punti di convergenza anche politica e addirittura oserei dire partitica dei cattolici però io credo che qualche conto con i cambiamenti della storia è opportuno che lo facciamo e credo che oggi il rischio di dar vita ad esperienze di partitini minoritari sia un rischio del tutto esistente guardate che non è mica una novità nella vicenda del nostro paese perché qui molti si sono esercitati nel capire che cosa sarebbe stato opportuno che succedesse nel 94 e negli anni successivi nel 94 abbiamo fatto esattamente il terzo polo solo che non abbiamo preso il 18% come diceva Marco ma abbiamo preso il 12% e in quegli anni abbiamo fatto esattamente il partito progressista di ispirazione cristiana perché abbiamo fatto il partito popolare e il partito popolare diciamo così ha finito la sua esperienza in un dibattito a cui io stesso ho partecipato in modo anche critico verso prima la Margherita e poi il partito democratico e anche per gli insuccessi elettorali che quella esperienza aveva registrato quindi io inviterei dal punto di vista come dire dal mio punto di vista io penso che oggi pur con tutti i problemi la presenza di uomini di ispirazione cristiana all'interno delle formazioni politiche che l'evoluzione della vicenda della storica del nostro paese ha determinato sia una scelta in grado di essere maggiormente produttiva guardate che non funziona nemmeno il riferimento all'Europa perché il mondo io vi invito a considerare che il mondo del partito popolare europeo non è diciamo così l'evoluzione dell'internazionale democristiana è il mondo che organizza la destra europea con significative assonanze con la destra mondiale perché guardate vi invito a leggere un editoriale su avvenire di ieri molto bello sulla candidatura di Romney e sulla contraddizione dell'orientamento di una parte dei cattolici americani a votare per Romney con questo diciamo così articolo non mi ricordo l'autore ma aveva la dignità degli editoriali di seconda pagina di avvenire quindi in qualche modo rappresentava una posizione ufficiale del giornale che metteva in condizione lo diceva già Marco l'impossibilità per un cattolico di votare per Romney e naturalmente la contraddizione particolare è che una delle armi di Romney nella competizione contro Obama è un cattolico indicato alla vicepresidenza allora attenzione sulle questioni sulle vicende perché noi ci troviamo in presenza di una tendenza della destra mondiale ad usare gli strumenti della fede per una ragione ed un obiettivo di natura squisitamente politica ed elettorale e questa era la prima cosa che volevo dire la seconda cosa che voglio dire è naturalmente diciamo così guardate io ve lo confesso io mi trovavo molto meglio nel partito popolare di quanto non mi trovi nel partito era molto più facile per me stare nel partito popolare di quanto non sia oggi facile stare nel partito democratico perché quando si sta con la propria appartenenza con la propria identità è tutto molto più semplice io credo tutto sommato che a molti miei attuali compagni di partito estessero molto meglio nel partito comunista dopodiché diciamo così lo sforzo che noi dobbiamo fare è capire qual è il livello e il punto in cui si colloca diciamo l'evoluzione e lo sviluppo politico e culturale del paese e allora io dico solo due cose la prima in passato il rapporto tra laici e cattolici in politica nel nostro paese era il rapporto tra partiti oggi il rapporto tra laici e cattolici nell'esperienza politica del paese non può che essere un rapporto dentro i partiti c'è un problema e concludo con questo e il problema è naturalmente quello di come diciamo così nel percorso raccolgo una battuta che si faceva prima io l'ho sentita da Guido Bodrato facciamo una chiacchieravamo prima oggi nel partito democratico è molto più facile per gli ex comunisti immaginare di trovarsi in una esperienza politica che è la continuità della loro storia precedente è molto più difficile per un cattolico immaginarsi nel partito democratico come diciamo la prosecuzione della propria storia precedente questa è la complicazione questa è una complicazione molto forte ma su questo io credo che noi dobbiamo diciamo così giocare l'unica sfida possibile che è quella della competizione per il profilo culturale politico ideale programmatico del partito democratico e credo che questa battaglia vada giocata dai cattolici dentro il partito democratico non immaginandosi organizzati per la conquista di posizioni di potere di questo o di quel dirigente a livello nazionale o a livello locale ma come una competizione per le idee come una competizione che si fa diciamo così organizzando la convergenza di tutti intorno ad una idea intorno ad un'idea e questa secondo me è la nostra sfida noi abbiamo un problema abbiamo il problema di un partito che rischia diciamo così di diciamo di di immaginarsi più e di problematizzarsi più sul piano dell'organizzazione che non sul piano delle idee la sfida che abbiamo è quella invece di mettere al centro della prospettiva del partito democratico un confronto sulle idee e sul profilo politico e culturale del partito non è ancora risolto lo dice sempre Bersani no non abbiamo ancora risolto il problema di qual è diciamo così il profilo ideale culturale e politico del partito democratico siamo in ricerca su questi temi bene io penso che i cattolici devono individuare che lo spazio questo spazio nel PD è contendibile e io credo che la sfida dei cattolici nel PD sia quella di elaborare proposte ed idee per conquistare questo spazio ci riusciremo sarà facile certo non da soli naturalmente sarà facile non è facile ma io credo che al momento dato storico in cui ci troviamo a vivere questa sia la prospettiva che dobbiamo costruire nel partito democratico bene mentre aspettiamo che anche la tradizione socialista nel partito democratico batta qualche colpo ci congediamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti